Ha questioni di sostanza ma non è intorno a un cavillo, fondamentalmente è intorno a una non risposta da parte del governo su perché continuano a tenere inchiodata l'aula sulla non elettività a suffraggio universale di un nuovo Senato. Non siamo contro le riforme ma vogliamo che il potere rimanga in mano ai cittadini, almeno quello di scegliersi i propri rappresentanti.